Sold out come ampiamente previsto, in poche ore sono andati letteralmente a ruba in riva all'Adriatico i quasi 21.000 tagliandi disponibili per la gara di domani sera con il Trapani. Un record considerando che la prevendita era iniziata giovedì scorso alle 12 per soddisfare le migliaia di richieste arrivate anche dopo il tutto esaurito. Non sarebbe forse bastato neanche un impianto da 35.000 posti. Il conto alla rovescia è già iniziato, merito di Massimo Oddo e dei suoi ragazzi capaci a suon di gol ed entusiasmanti prestazioni di risvegliare un entusiasmo ancora maggiore. Pescare e Labruzzo hanno risposto presente, così come in passato. Ora la palla passa al campo, con il Delfino chiamato a confermare il suo stato di forma eccellente. Nelle quartier generale dell'appoggio degli ulivi Biancazzurri con il morale alto stanno ultimando la preparazione, mettendo a punto moduli e schemi in vista di gara 1. Fra i Biancazzurri l'unico dubbio riguarda la convocazione di Dario Zuparic alle prese con un piccolo problema muscolare. Rispetto alla gara con il Novara tornerà a disposizione Capitan Memusciai che ha lasciato il ritiro dell'Albania per unirsi ai compagni. Per il resto, eccezione fatta per i lungodegenti Coda e Mandragora, saranno tutti a disposizione. Fra i siciliani, Pektovic è in dubbio. Il Pescara dopo Marco Baroni ritroverà così sulla sua strada un altro ex. Serge Cosmi è stato anche allenatore di Massimo Oddo quando era sulla panchina del Lecce nella stagione 2011-2012. Quella di domani sera sarà la terza sfida stagionale fra Pescara e Trapani. In Sicilia, ad inizio stagione, i Biancazzurri vinsero nettamente per 3-0. Nel ritorno furono invece gli isolani a prevalere per 2-1. Anche la stagione scorsa l'impianto trapanese portò bene al Pescara che si aggiudicò la gara con un sonante 4-2 grazie ad una doppietta di Cristian Pasquato e reti di Biarnason e Politano. A Pescara invece nella prima giornata di andata la partita si chiuse senza reti. Due stagioni fa a Trapani finì 2-2 mentre nel match in terra d'Abruzzo i Granata si imposero di misura con una rete di Gambino. A Trapani il Delfino nelle ultime stagioni ha comunque sempre fatto risultato. Tornando alla gara di domani sera per il Pescara, considerando il peggior piazzamento nella stagione regolare, sarebbe importante iniziare con il piede giusto nel catino bollente dell'Adriatico. Una vittoria sarebbe fondamentale in vista del match di ritorno in programma giovedì 9 giugno al Provinciale. Prevista anche una particolare cerimonia pre-gara con 22 ragazzi al centro del campo, con le maglie delle 22 squadre che hanno disputato il campionato di Serie B e poi prima del match l'Inno di Mameli, che sarà cantato dal piccolo coro dell'Antoniano.